di positivi di oltre 10.000 persone. Quanto siamo allontani dal picco, professore? Beh, è difficile dirlo. È chiaro che la situazione è abbastanza importante, anzi sicuramente importante. Prima Cinzia Leone stava parlando che abbiamo imparato l'esponenziale rispetto alla crescita non esponenziale. E questa volta abbiamo più volte ricordato la storiella dell'inventore degli scacchi e del riso che ha messo in crisi un regno. È chiaro che fare previsioni è possibile attraverso i modelli matematici, osservando la Cina. Io credo che ci sia un... bisogna osservarlo, l'ho già detto da questo sgabello, giorno dopo giorno, per capire quando ci sarà quell'inversione di tendenza che al momento non c'è e anche quando vediamo una diminuzione. Questa diminuzione, come è stato detto, peraltro, da Gallera ieri potrebbe soltanto rappresentare un ritardo nelle notizie. Sì, per esempio, ieri c'era il tema dei contagi, no? Si diceva c'è una riduzione importante, ma lo stesso Gallera aveva detto probabilmente c'è un ritardo nell'accumulo dei dati e infatti così è stato. Esattamente. E poi ci hanno detto che ieri erano di nuovo 1500 contagiati in un giorno. Esattamente, esattamente. E' di malati di seconda e terza generazione. Ora, noi che siamo qui tutti i giorni e raccontiamo quello che succede, non sappiamo cosa significhi. Quindi magari possiamo aiutare anche a casa a capire. Ci sono due notizie che sono comparse. Una, questa, e l'altra notizia che credo abbia dato l'Università di Milano, l'amico e collega Professor Galli, che studiando il virus abbia detto che poteva avere una qualche parentela col virus tedesco. Quindi poteva esserci stata questa introduzione, incolpevole ovviamente, da parte di qualcuno che era stato in contatto con quel focolaio che sembrava apparentemente chiuso nella fine di gennaio in Germania. Quindi queste due notizie, seconda e terza generazione, vuol dire che aveva già circolato talmente a lungo per cui probabilmente poteva esserci stata l'importazione, già la circolazione del virus, sia all'interno di quell'area che al di fuori. Se posso esprimere... Cioè poteva aver circolato a lungo già in Italia? Sì, beh, alcuni dicono lungo, io ho usato un termine lungo, ma forse probabilmente non è così corretto. Cioè nel senso, alcuni pensano che prima del paziente numero uno... Cioè prima del 21 febbraio... Potesse essere, sono ipotesi ovviamente, ci potesse essere stata una circolazione, tal che, io so quello che è uscito sugli organi di stampa e sicuramente l'avrà letto anche lei, ci potevano essere state in un periodo influenzale qualche cosa che poteva essere in modo assolutamente... Però mi perdoni, se lei mi dice che circolava già, perché un po' appunto anche noi ci eravamo fatti questa idea... Sì, ma questo non è una verità... No, no, è un'ipotesi, diciamo. Quando si parla di seconda o terza generazione può darsi che abbia già girato e quindi già le persone che poi se l'erano preso l'hanno trasmesso a quello che noi chiamiamo il paziente uno, ho capito bene? È possibile, è possibile, però non è che... Però se questo è, vuol dire che il virus è cambiato, perché nelle settimane precedenti noi non abbiamo notizia di terapie intensive, prese d'assalto... Ma questo no, il virus non dovrebbe essere cambiato. È chiaro che aumentando i numeri, siccome bene ribadirlo, l'80% sono forme benigne, è possibile che aumentando i numeri... Quindi aumentando i numeri poi è aumentata anche l'emergenza sanitaria. Certo, evidentemente, questo mi preme sottolinearlo, queste sono ipotesi, nessuno ha una certezza, ovviamente. Chiaro, allora, Telese... Non vorrei fare un po' il...